con il preside serpico dell'istituto nobile Leone e vogliamo dire la manifestazione di stamattina della Shoah. Nell'aula Magna questa mattina grazie al coordinamento dell'ufficio diocesano scuola di Nola c'è stata una manifestazione che ha coinvolto diverse classi delle quattro scuole superiori Nolane, Albertini, Carducci, Masulloteti e noi. È stato un onore mettere a disposizione l'aula Magna anche perché avere a disposizione dei relatori eccellenti come il dottore Moretti e come il signor De Simone è stata un'occasione eccellente che non potevamo perderci. Il racconto del dottore De Simone che ha colpito un po' sia i ragazzi che i professori sulla morte del fratello. Purtroppo il fratello del signor De Simone è rimasto vittima di quegli esperimenti tragici sconsiderati che sono stati fatti nei campi di concentramento. Il piccolo d'inganno venne richiamato alla speranza di poter rivedere la propria mamma e fu per questo che alzò la mano e fu avvicinato e raccolto preso dalle truppe naziste che però non fecero vedere a lui la mamma né la sua famiglia né i suoi effetti ed affetti ma anzi fu sottoposto ad indicibili chiamiamoli sperimenti ma sono delle torture che lo portarono a finire la sua esistenza nel campo di concentramento. L'istituto nobile ha avuto agli inizi del secolo come alunno il famoso commissario Vecchione. È vero, lei ha tramite un suo dipendente preso dei documenti. Noi nell'archivio storico abbiamo trovato dei registri dell'allora istituto professionale per l'avviamento ai mestieri che risalgono al 1928. In questi documenti il dottore Vecchione poi ispettore di polizia poi giusto così definito dagli ebrei fu nostro ospite ed è diventato un eroe che attraverso il suo potere giudiziario ha coperto, aiutato ed estradato fuori dell'Italia centinaia di ebrei. Un giusto fra i giusti, mi ripeto. E quindi è considerato un eroe per gli abitanti del posto, è vero? Io direi che figure come queste andrebbero portate all'attenzione degli studenti perché attraverso gli esempi si può capire la tragicità di un tempo, non solo attraverso la lettura di una fredda pagina di un libro di storia.